Ciao mamma, salutate mamma! Ciao mamma! Allora, raccontiamo anche a mamma quello che stiamo raccontando che Rocco è andato nel paese dei... Pallini dove tutti parlano il... Pallinese è in Polinesia il paese dei... no, in Pallinesia ma Rocco c'è andato col suo aereo, dove sta? Ecco qua il suo jet privato è andato nel paese dei pallini mamma è ricco Rocco esatto e si è ritrovato con tutti che gli parlavano in pallinese pa 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 e Rocco non capiva niente pa 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 e Rocco non capiva niente allora come ha fatto a imparare il pallinese? Andando a scuola a scuola, è andato a scuola dei pallini dove c'è il maestro pallino che la prima lezione gli ha insegnato a parlare in pallinese quindi il maestro gli diceva pa 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 bravissimi a Rocco è piaciuta questa lezione di pallinese e sapete cosa fa Rocco quando gli piace qualcosa? la rifà ci scrive una canzone ha preso la chitarra e ha deciso di fare un accompagnamento musicale mentre il maestro faceva lezione e i suoi compagni rispondevano quindi il maestro parlava e Rocco sotto lo accompagnava con la musica allora Rocco c'è scritto pure di ritornello ve lo ricordate come faceva di ritornello? a me piace imparare imparare a suonare con i pallini io so fare tanti ritmi come questo qua a me piace imparare imparare a suonare con i pallini io so fare tanti ritmi come questo qua a me piace imparare imparare a suonare per tre volte so cantare un finale come questo qua un finale come questo qua un finale come questo qua ciao mamma ci vediamo a scuola di pallina ciao mamma ciao mamma ciao ciao ciao